ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video bentornati sul canale ciao ciao saluta federico vuoi salutare e devi salutare qua amore non ti vedono oggi dove siamo stati oggi dove siamo stati dove siamo stati oggi oggi siamo stati al negozio della lego e abbiamo fatto un anno innanzitutto chi ha visto il video precedente molto precedente della lego io ho comprato la bambolotta quindi mi mancava il suo fidanzato e quindi eccolo qua volevo cercare cioè volevo non cercare volevo quello con l'occhiolino e la linguetta di cuori però non c'era c'era questa erano rimasti pure due quindi tutto va bene questo corella sta da sola si è stancata poi che avresti loro troppo gru e minion stuart e otto molto carini molto carini ero indecisa se prendere lui o prendere chip e chop però col fatto che la commessa ma di torta c'è piaccia che sono usciti ora quindi li trovi questo è già uscito da qualche mese quindi ho detto che allora prendo lui e poi prossimamente tanto ci rientremo prossimamente e per federico abbiamo preso il treno con i numeri con i numeri invece per mattia prenderemo una box dei pokemon che adesso non abbiamo trovato apriamo il treno dai che adesso aspetta che adesso non abbiamo trovato quindi non ci abbiamo da farvi vedere e andarlo a prendere lui domani quindi poi vi faremo il video aggiornamento per la box dei pokemon insomma che terra abbiamo quindi oh oh ma chi mi spingi guardate questo allora apriamo il treno ragazzi vediamo com'è io invece apro la testina ma scusa tu non hai caldo cioè io sto scherzando allora 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 dobbiamo costruire il treno dobbiamo costruire il treno ma lo costruiamo eh no ragazzi guarda oddio mi vado con un pacca nino vado a prendere pure la femminuccia un pacca nino ti vado a prendere lì intanto noi costruiamo il trenino almeno ci provo allora vediamo qua papà eh more aspetta questo lo giri bravo lo attacchi qua e poi l'ultimo vagone mettiamo questo è uno binare questo è uno binare papà dov'è binari? no questo scusate eh guardate la femminuzza papà dov'è binari? guardate il maschietto papà dov'è binari? troppo carino binari? sì però ho capito di loro i binari qua anche stanno qui ci sono i binari amore i binari poi li dobbiamo comprare ok? questo era senza binari amore questo era senza binari perché lui ha visto un altro tipo di trenino mamma con i binari però veniva 60 euro mamma metti i numeretti bravo dato che lui con i giochi non è che insomma li non è che delicato ne ha rotti parecchi allora abbiamo pensato di prendere questo da da 20 perché se lo rompe vediamo questo qua da 20 vediamo come come lo tratta e quanto dura se si comporta bene se appunto non lo rompe non lo maltratta gli compro quello da 60 altrimenti no perché sono sincera buttare 60 euro così che dura dall'orgio al domani proprio amore ma sono numeri li devi mettere in fila perché metti in sette e due vabbè che se ne frega ma come va bene che se ne frega e quindi guarda guarda qui ci sono io aspetta amore ci sono mettiamo quelli qui aspetta mamma mamma aspetta amore aspetta che papà ha fatto un casotto aspetta c'è pure il cagnolino ho dato il cagnolino lo faccio vedere bene tutto il trenino eh si siamo a battere ottenendo il cane il cane qui mettiamo i bimbi dentro il treno che si mette il treno eh aspetta amore ora vado a battere 8 9 lo 0 si lo rimane a me si si ciao 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 qua mettiamo lo 0 qua mettiamo il cane bimbi aspetta facciamo vedere il treno eccolo qua ragazzi no no non lo so ah ok treno pronto papà metti per terra aspetta vai aspetta vai telefono a terra aspetta 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 vai vai ci c'è pure forno allevati tu lui subito lui subito costona sony costona sony ti piace un trenino amore? si che bello come tutto io spiole al treno ti piace il treno? ti piace il treno? come fa il treno? papà così si come è il ciao ragazzi Brutto cattivone Brutto cattivone Naso mio Naso mio Ok ragazzi il video dell'ego finisce qua Vero amore? Sì Poi vi facciamo vedere quando costruiamo Gru Stuart E8 Sì E8 e passerò 8 Sì poi vi teniamo aggiornati Anche perché poi Messa che insieme a questo qua Della lego Facciamo vedere anche la box dei pokemon Insomma quindi Quello che abbiamo preso poi a mattia Che oggi non c'è Perché non l'abbiamo trovata questa box Quindi ci rimane un altro giornalaio Però sta vicino al lavoro suo Quindi ci va domani dopo il lavoro E quindi niente va bene vi terremo aggiornati Ok? Quindi allora adesso Iscrivetevi al canale perché è gratuito Accendete la campanella per non perdervi I nuovi video E mettete un like Un bel pollice all'insù E niente ci vediamo alla prossima Ciao